Che senso ha tenere un cuore sfitto, la voglia mia in soffitto, questo desiderio ad occhi chiusi testa, freddo ormai... Si intitola Mille Soli, questo nuovo brano che approda sulle piattaforme digitali principali. Parliamo un po' della scrittura, della genesi di questa canzone. Allora, questa canzone è nata un po' per... non per caso, però insomma è voluta fortemente da Adriano Ruh. Infatti lui ne è l'autore e ha curato tutti quanti gli arrangiamenti. Lui mi ha vista in vacanza in una tv e niente, non so che cosa ha fatto scattare questa molla, mi ha cercata. Noi non eravamo neanche amici virtuali, quindi mi ha proprio cercata e mi ha mandato un messaggio. Mi ha detto che gli piaceva magari l'idea di cantare una canzone con me. Però sai, sono quelle cose che uno fino a che non le fai non ci credi, perché è molto... ti sembra quasi un po' un gioco all'inizio, no? Nel senso di ci credi, non ci credi, succede, cioè... e quindi l'abbiamo affrontata in questa maniera. E invece adesso questa Mille Soli è una realtà che, devo dire, ascoltandola e riascoltandola adesso, mi dà delle bellissime sensazioni. Che consiglio dareste agli ascoltatori che si approcciano ad un brano come Mille Soli? Ma guarda, secondo me Mille Soli bruciassero anche Mille Soli, è un tratto della canzone. Il significato è che uno può aspettare anche secoli e poi potrebbe arrivare quello che noi magari ci aspettiamo. Quindi questo è il messaggio positivo di questo brano. Grazie a tutti.